Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it Bentornati sul nostro sito Ci è venuta oggi a trovare Cristina Pelliccia Ciao Cristina, benvenuta al Corriere dello Sport Grazie mille Allora, prima di addentrarci in tematiche sportive delle quali so che tu sei ferratissima soprattutto a livello calcistico, giusto? Sì, sì, una grande storia Una grande storia d'amore proprio Parliamo Parliamo di una cosa più importante per te ovviamente che è Suburra, la serie 2, la seconda stagione Allora, partirà il 22 febbraio uscirà il 22 febbraio su Netflix ed è una serie che ti vede protagonista Tu sarai un'agente, giusto? Sì Sarai un'agente Allora, io so che ci sono delle cose che tu puoi dire e delle cose che tu non puoi dire Ora, dimmi le cose che puoi dire e poi cercherò di farti dire le cose che non puoi dire No, scherzo, scherzo Grazie, è il tuo lavoro Non ti posso dire niente Ti metto a tuo agio No, no, scherzo, scherzo Cominciami un po' a raccontare insomma il personaggio che interpreterai Allora, quello che posso dire New entry, giusto? New entry, sì, sì, chiaramente Quello che posso dire sono magari tratti del carattere fondamentale che si riescono a percepire già dalla prima puntata Cristiana è una ragazza giovane una giovane agente appunto molto determinata è molto determinata e ambiziosa e sa quali sono le sue capacità soprattutto proprio a livello anche di polizia perché ha studiato molto per entrare e quindi farà di tutto per passare al livello superiore cioè nel senso sa quello che si merita e sa che quel posto che non le è stato assegnato doveva essere il suo quindi diciamo che cercherà in tutti i modi poi di Diciamo che ha la tua Cristiana e arriva un po' di insomma capisce che c'è qualcosa che non va perché lavora con Lele Esatto Che è uno della triade di Suburra diciamo che è il figlio di questo Il figlio del Poliziotto che non ricordo di questa gente e che però insomma si sa insomma lo possiamo dire perché si sa è dischiato diciamo qualcosa di losco Esatto E lei vede che lui la scavalca e quindi comincia a subodorare che ci sia qualcosa che non va All'inizio magari pensa che sia per il fatto che è figlio di Poliziotto quindi pensa più a un fatto di raccomandazioni e poi insomma sente un odore strano sente che c'è qualcosa di più losco perché insomma lo vede fare delle determinate cose che non che la insospettiscono e quindi lei essendo molto curiosa e investigativa giustamente per il lavoro che fa cercherà in tutti i modi basta non posso dire a volte non posso dire a volte Allora dai adesso non ci dici come va a finire e se ci sarà la terza stagione Se muoio Se ci sarà la terza stagione Spoiler No no Senti tu la tua formazione Sì Professionale e soprattutto teatrale giusto? Sì in realtà Senti dal teatro Sì questa è la mia primissima esperienza È la tua prima esperienza in una serie di V no? Dico inizio col botto perché insomma ci sai ci sono dei gradi qualche nel calcio ci stai l'allenatore comincia dalla gavetta hai fatto gavetta hai fatto teatro ovviamente però dico poi Piero Viano sani dalla Lega Pro in serie B poi arrivi in serie A in una squadra piccola e tu hai fatto subito il salto in una grande realtà come quella di Netflix no? Come ti sei cioè quali sono state le tue sensazioni il primo giorno di riprese quando ti sei ritrovata in questo mondo nuovo per te ovviamente guarda io penso che le prime scene girate appunto il primo giorno di set non so cosa ho fatto devo dire che ero totalmente in panne confusa perché non avevo mai visto un set non sapevo sai proprio come va la giornata come avevo visto Edoardo solamente un'altra volta nella mia vita quindi sai ti prepari la tua scena arrivi sul set la ripeti qualche volta ma non c'è un reale rapporto con l'altro attore mentre nel teatro è fondamentale fai un mese di prove e ti conosci talmente bene conosci talmente bene il testo che poi arrivi sul palco che hai l'adrenalina ma hai anche tutto uno studio pregresso molto importante che ti dà molta sicurezza quindi sul set ecco sì non so cosa ho fatto il primo giorno poi Edoardo veramente mi ha dato una grande mano perché mi ha spiegato mi ha tranquillizzato mi ha detto è tutto normale respira non fare caso tanto alla macchina perché ho paura no che ne so dove devo guardare queste cose anche tecniche e lui mi ha detto fai come come se stessi a teatro cioè studiato sai quello che devi fare e hai studiato il tuo personaggio quindi stai tranquilla andrà tutto bene La macchina organizzativa Netflix anche sul set penso sia stata abbastanza rigida tu hai girato a Roma? Sì soprattutto a Ostia soprattutto a Ostia ok quindi sei ritrovata spesso con Borghi quindi anche o no? Ma in realtà poco ce lo conosco perché è un amico ma sì ci incontravamo sul set insomma però Edoardo è stato quello con cui ho avuto più più a che fare ok dicevamo dell'organizzazione mi interessa questo aspetto perché insomma immagino che ci sia una grande preparazione che il regista come ti posiziona tu quanto giravi più o meno? beh adesso ti dico più o meno comunque sia è un personaggio che entra quindi chiaramente non ha il livello di presenza quindi piano piano entra nella storia e cresce il suo il suo personaggio quindi diciamo non so comunque stavi tutto il giorno ecco quando vai a lavorare sono dieci ore e mi alzavo una volta mi hanno mi sono venuti a prendere le cinque di notte quindi sì piacere ho chiaramente dormito scusami al runner perdonami davvero ma devo dormire perché quindi ti sei approcciata in modo molto umile se vogliamo ci sono anche persone che invece arrivano e già si sentono un po' più per me è stata una soddisfazione talmente grande che ho detto mi sveglierò tutti i giorni alle cinque va benissimo ecco adesso c'è visto un sacco di albe a Ostia bellissime mi hanno fatto anche un grande regalo tu sei di Roma no? sì 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 sei nata proprio a Roma sono nata cresciuta a Roma però anche un terzo di me è napoletano e poi anche un altro terzo sardo quindi da famiglia famiglia sì da parte di papà è napoletano da parte di mamma sarda quindi c'è un po' tutta l'Italia che ti gira nelle vene tutta l'Italia nel sud che ti gira nelle vene se ne terrona molto sì sì perfetto non penso che i nostri spettatori sono soprattutto al centro-sud vedi ah perfetto ma anche a farla apposta proprio no? sì sì perfetto sono proprio due caratteristiche di me importanti a livello di carattere di caratteristiche di caratteristiche